Ho iniziato a lavorare senza nessun tipo di tutela, di garanzia, di sicurezza, perché appunto noi non abbiamo assicurazioni sugli infortuni, non abbiamo ferie, malattie. Il progetto Trans-Europa Caravan è un progetto che sta succedendo in 15 paesi europei. Ci sono cinque caravani, tutti i tre paesi, per incontrare organizzazioni, persone, cittadini, istituzioni, qualcosa che funziona per un'europe migliore, un'europe più solida, più open-minded, più ecologico, più progressista. Una palestra popolare deve essere un luogo che ridà al popolo quello che al popolo è stato tolto. Il mio nome è Indigo e ho venuto da un'occhiopata in western Germania. Il fuoco è dovuto essere cutta perché c'è un'acqua all'interno. Abbiamo in un'acqua all'interno con tre paesi, per provare a evitare di essere cutta. in un'acqua all'interno con un'acqua all'interno con un'acqua all'interno con un'acqua all'interno. Questo non è un crisi, questo è una crisi politica. Questo è il risultato di politiche actione. Quindi, al momento, non sono solo persone che hanno deciso di muovere al mondo, ma sono il risultato di guerra, di poverà, che viene anche dall'acqua all'interno. Questo è un'acqua all'interno con un'acqua all'interno con un'acqua all'interno. Grazie a tutti!